Disney presenta la favolosa cucina delle principesse Disney per fare nel forno squisiti dolcetti e giocare a prendere il tè per prepararsi alla festa reale e wow! con la specchiera e tanti accessori da vera principessa sarà la più bella del ballo cucina e specchiera delle principesse Disney da Grandi Giochi! Ecco la lampada notturna Peppa Pig batti le mani e si accende Puzzle 3D Raves Burger illumina il tuo mondo Puzzle 3D Raves Burger